In sicurezza, violenza e ritiro sociale. Questi alcuni dei tratti comuni in tanti adolescenti di oggi e la pandemia non ha fatto altro che incentivare tali comportamenti in tanti ragazzi moderni. E quanto evidenzia lo psicologo Stefano Franzò, luminare in tema di disagio giovanile, basta vedere all'interno di una classe commenta come gli studenti sono facilmente divisibili in macro aree. Ci sono i giovani più violenti e bulli, quelli insicuri con una bassa autostima e poi i demotivati che non trovano stimoli in ciò che fanno. Pandemia, isolamento a casa, chat e videogiochi stanno solo aggravando quella che è già una piccola malattia che è l'adolescenza di per sé, un cambiamento mentale e corporeo di giovanissimi che si ripercuote sul modo di fare sulla formazione. In tutto questo è importante la figura dei genitori, si è passato a sottolineato Franzò, dai padri padroni di una volta ai padri troppo permissivi e distratti di oggi. Non c'è più il rispetto del no, la negazione può essere sempre appellata dai figli e spesso l'appello porta a una controsentenza al loro vantaggio. Oggi i ragazzi hanno la difficoltà non solo di affrontare l'adolescenza ma anche i vari disturbi che sono in aumento, disturbi dell'ansia, la fobia, disturbi di attacchi di panico, la depressione, il ritiro sociale, la difficoltà di affrontare la vita. Stefano, oggi un problema molto importante che devono affrontare i genitori è la richiesta dei tatuaggi. Come devono comportarsi i genitori sulla base di queste richieste dei ragazzi? Quando ci sono richieste un po' strane, un po' bizzarre, io dico sempre che il genitore deve ascoltare questi figli, ascoltarli profondamente ma non solo quello che dicono, il linguaggio ma anche il linguaggio non verbale, quindi il modo di fare, di atteggiarsi e poi negoziare queste richieste. Quindi quando ci fanno queste richieste, quando ci spiazzano questi ragazzi, ascoltiamoli di più, vediamo quali sono i loro bisogni, i loro progetti, i loro sogni per poi negoziare e capire bene qual è questa fase evolutiva che vogliono affrontare. Ecco, Tore Franzo, qual è la realtà del disagio giovanile oggi nel nostro ambito territoriale, quindi nella provincia di Ragusa? Ma diciamo che oggi i ragazzi veramente sono un po' smarriti, fragili, noi vediamo diverse caratteristiche di questi ragazzi perché li affrontiamo, li vediamo, io li contatto sempre tra scuola, tra lo studio, me li porto nei genitori. Sono ragazzi alcuni fragili, alcuni insicuri, che somatizzano, alcuni che fanno fatica ad uscire di casa, ad andare a scuola, altri che invece sono spavaldi, trasgressivi, provocatori, che non si mettono in relazione con gli adulti, addirittura li provocano gli adulti, altri che invece sono demotivati. Quindi abbiamo una sorta di difficoltà di questi ragazzi che bisogna attenzionare e preventivamente bisogna aiutarli. I genitori e gli insegnanti e noi operatori dobbiamo mettere in atto le due esse, da una parte sopportare, e oggi i genitori riescono a farlo bene, ma non basta solo sopportare i figli, bisogna supportarli, dargli un supporto anche con l'aiuto e la competenza di un professionista. Tore Franzo, nel vostro centro di psicologia a Ragusa avete aperto un pronto soccorso adolescenza, di cosa si tratta? Appunto, proprio per evitare queste derive e proprio per aiutare e sostenere i genitori che sono smarriti, che non ce la fanno, è un numero H24 dove noi rispondiamo, ma molti ragazzi che io incontro nelle scuole mi scrivono privatamente sui social. Oggi il social può essere costruttivo perché molti mi scrivono e prima di fare quella scelta, quel comportamento disfunzionale, ecco, questa è la prevenzione. Magari parlarne con qualcuno esperto mi scrivono sui social, su Instagram e mi dicono, mi chiedono dei consigli. Allora, il pronto intervento sociale, l'SOS Adolescenza, si tratta proprio di questo. Nel momento della confusione, quando siamo smarriti, ecco, hanno questo numero H24 che possono chiamare, oppure scriverci nei social, proprio per prevenire e per evitare che quel disagio si possa cronicizzare.